Sei stanco di essere povero su GT Online? Bene, allora contattami su Instagram per un'aggiunta di denaro, link qua sotto nella descrizione E ciao a tutti ragazzi qui Xwill e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video Oggi siamo qui ritornati su Grand Theft Auto Online, come sempre in compagnia del nostro omino travestito da agente poliziesco In realtà non è vero, però comunque lavoriamo per conto di Vincent che appunto lavora qui in polizia Con il terzo episodio dell'assalto al Clacking Bell Beh, allora, il secondo episodio è stato un qualcosa di epico, dato che abbiamo rubato un treno e l'abbiamo guidato Pazzesco signori, davvero una roba fuori di testa Per cui chissà cosa ci aspetta in questo terzo episodio Ovviamente, come sempre, prima di cominciare vi invito a lasciare un bel like per supportare meglio il canale Commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi per non perdervi tutti i futuri contenuti Detto ciò signori, vediamo un attimino la terza missione di Vincent Cosa sarà e cosa ci darà da fare Ecco qui il nostro crescissimo Vincent Quali armi? Andiamo a rubare, presumo, delle armi Il cartello avrà un grosso vantaggio su di noi se non ci procureremo le armi e le attrezzature necessarie Ma non è il caso di cedere all'impulsività Dobbiamo selezionare il nostro bersaglio con cura e coprire le nostre tracce Benissimo signori Mamma mia, mamma mia Sinceramente che dopo il treno, cioè capisci, la prima missione è stata un po' così blantina, no? Recupera i soldi Ma dopo il treno, regà, eh Cioè chissà che cavolo ne uscirà fuori Ho cambiato auto rispetto allo scorso episodio Ho preso la Ferrari qua La F8 Che è una macchina veramente con i controcoglioni Dovrebbero arrivarti le immagini proprio adesso Ok E abbiamo i vari bersaghi, vedi? Obiettivo A Obiettivo B e obiettivo C Ah ok, quindi io posso scegliere chi rubare Quindi vedi tipo Il C sempre essere quello più cazzuto, eh Cioè con gli insurgenti Dove sta C? Eh, là sotto ovviamente B invece sta in mezzo al mare Why? Andiamo da B allora Cioè più che altro mi incuriosisce perché si trova in mezzo al mare Vediamo un po' Che poi dall'immagine B sembrerebbe avere tipo Boh, dei mitraglioni, qualcosa del genere Forse non proprio il migliore equipaggiamento Ma mi incuriosisce il fatto appunto che si trovi in mezzo al mare Voglio vedere di cosa si tratta Mmm, c'è uno iotticello, regà Eh, mi sa che è proprio lì che dobbiamo andare, sai? Che poi vedi chi ha sopra? Una specie di contraere Che è? Come lo raggiungo però? A nuoto come fece Michael de Santa? Ma dai penso che... Eh, infatti vedi, mi hanno messo degli speedophile Eh no, perfetto Cioè ti pare che il copertone mi stava a ammazzare la macchina? Vai di speedophile Assaltiamo il Dynasty Si chiamava Dynasty sto roba Boh, non mi ricordo Comunque la mappa di Slasher Che figata Veramente top Olè Rubo un set di armi e apprezzatura Ora qua Sicuramente sarà pieno di gente Che a me vuole male Ma di quello ormai noi ci abbiamo fatto l'abitudine Giusto? C'è qualcuno qua? Quanto pare no Bene Andiamo avanti, andiamo avanti Penso che qualcosa si trovi qua giù Non so perché Ma l'ho proprio per scontato Oh Stronzo Pure tu Che nobadi? Boh Aia Ho sentito dei colpi brutti eh Che devo fare? Previ per entrare Dove sta entrando? Eh? Sono arrivato sopra? Non ho capito Ok Ma l'attrezzatura quindi tu sta Forse al piano di sopra mi viene da pensare a sto punto Boh è qua Però qualcosa c'è E infatti vedi Qualcosa c'è qua Prendi Sto borsone Ok l'ha preso così Sto facendo grandi progressi Sì ok Ma amico mio Vorrei capire dove diavolo si trova La roba di mio interesse lì C'è il buzzard Occhio al buzzard eh Ok colpito Vai Urca vacca Il buzzard addosso mi stava arrivando Certo che la sfiga proprio Cioè regà Se mi arrivava addosso era allucinante Eh Vedi quello è andato dall'altro lato se non altro Le armi dove diavolo stanno Sopra per forza regà Qua non Non li vedo Non c'è manco più nessuno Sterminato tutti Viene solo ogni tanto qua qualche Elicopter Elicopter Oh ma dove sta Qua Oh ma dove li hanno messi sul tetto Do cazzo stanno ste armi Se possa fare No è imparazzante davvero Occhio a ste elicottero Ma morici Qua nemmeno Giù nelle stanze Nemmeno Dove diavolo stanno ste Pare che indichi verso giù Ma non capisco dove però Sembrano a questo livello almeno Vedi che non c'è più la freccia Quindi dovrebbero essere qua Ma io sono sicuro di esserci già stato qua E non li vedo Vedi Ancora più giù E proviamo ancora più giù E qua Ma valla ci sono passato accanto E non me ne sono reso conto Consiglio l'equipaggiamento Ok In questo posto dovreste trovare armi Che ha raccolto un nuovo inventario Che è venuto il L1 Ah quindi io posso decidere Se recuperare anche altri equipaggiamenti O andare direttamente da Vincent Allora se A viene di passaggio Perché forse ho trovato un modo Per vedere l'equipaggiamento Eh si vedi C'è cambiare l'inventario Quindi queste sono le armi Che io avrei durante il colpo Non proprio il massimo Se devo essere sincero Per cui Proviamo ad andare anche da Ma proverei C dai Cioè penso alla fine Che si cumulino Capito Cioè se adesso io vado a recuperare Le armi di C Me le ritrovo insieme Alle armi di B Così potrò affrontare meglio Poi il colpo finale Però mi chiamo l'Oppressor Mi sa Ma questi elicotteri Non me li tolgo più di alto addosso Cioè non ho capito È mezz'ora che c'ho gli elicotteri addosso Guarda ne ammazzo uno E ne nasce un altro Istantaneo proprio Come un bonifico Che è sta roba Che non c'è il Terrorbyte Cioè non posso usare L'Oppressor Mark II Mi state dicendo davvero Cioè non me la fa usare Non posso richiederla Cioè non mi fa chiamare Il Terrorbyte Allucinante Cioè dove siamo tornati Negli anni 30 Qui La volevo usare solo Per muovermi velocemente Niente di più Niente di meno Ma va bene Si vede che farò come Se faceva l'antica Vado a recuperarmi In elicottero Elicottero che ovviamente Non c'è Allora andrò da C Con l'auto Che devo fare Siamo quasi arrivati eh Manca veramente poco Peccato per sta roba Che non puoi richiedere L'Oppressor Perché serve Non siamo più abituati A muoverci così lentamente Poi manco gli elicotteri Ci stanno Cioè voglio dire Il Titan Oh cazzo Invece sto pure Sto deficiente Che mi Cioè se mi ammazza Il Cosa del Della vecchia attività Mi triggero male Eh Non ne stanno spawnando Più forse Perché sono da C Quindi No ecco il cavolo Invece Continuano a spawnare Questa è palesemente La Merry Weather No Sì ma Sti Buzzard però Hanno un po' rotto eh Cioè che vogliono Nella mia vita Ne ho distrutti 100.000 E basta più Eh cavacca Maledate Poi ci si mette pure La Merry Weather Come me ne torno a casa io Come uno scolapasta Va bene Sono morti tutti No Là ce n'è uno Sta fermo Vedi chill All'altro Di nuovo Pazzesco raga Pazzesco Pazzesco 100.000 Ce ne stanno 100.000 Però forse ho ucciso tutti Allora recuperiamo sta roba qua Vai 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 Piglia piglia Perfetto Ha lasciato l'equip Ah Devo scegliere quindi Se tenere quel Cioè non posso averli tutti e due Cavacca però Fammi vedere cosa mi dà l'equipaggiamento della Merry Weather È uguale Regà è uguale Che io prenda quello della Merry Weather O prenda quello dello Yotton Perché un caccio è uguale Ma allora che sono venuto qua Io credevo che Ma allora che sono venuto a fare qua Scusami Io credevo che cambiasse l'equipaggiamento Che magari quello della Merry Weather Fosse un attimino più E Pensavo addirittura si potesse cumulare Ma allora Non mi interessa Me ne torno a casa Tempo perso proprio questo Fammi via almeno il Titan Per favore No eh Ci vediamo da Vincent Ed eccoci qua A casa di Vincent Finalmente hanno smesso di inseguirmi tutti Ce n'è voluto di tempo Regà Veramente ce n'è voluto di tempo Let's go Eccoci qua Usa l'app dei messaggi Questo vero è Vincent Va bene E va bene Confermo Regà Per me va bene così Ho scelto l'arma Cioè praticamente Se io voglio scoprire Diciamo Tutte le varie Robbe da poter utilizzare Tutte le varie attrezzature Le devo fare avanti e indietro Portarle qua E poi solo all'interno del garage Posso vedere cosa contiene Cioè Ma il loco no Follia Cioè quindi quello che avevo fatto Aveva senso Ma dovevo prima lasciare Questo equipaggiamento qui E poi ritornare qui Con l'equipaggiamento Della Mary Weather Per vedere se mi piaceva Non proprio il massimo Come situazione Ecco Ma va bene Detto ciò signori Io direi che per questo Terzo episodio Possa essere tutto Abbiamo rubato L'attrezzatura È stato un po' Un mezzo casino Se devo essere sincero E soprattutto Abbiamo perso Molto ma molto tempo Perché Alcune cose Mi sembra che non siano state Spiegate propriamente bene Ma detto ciò signori Io come sempre Vi invito a lasciare un bel like Per supportare meglio il canale Commentate Condividete Se avete voglia Seguitemi su Instagram E TikTok E noi ci rivediamo Con un prossimo video Woooo Ciao